L'arma dei carabinieri è sempre vicina ai cittadini e il Natale è tradizionalmente l'occasione per lo scambio degli auguri accompagnati quest'anno dal calendario ricco di immagini suggestive che ricostruiscono alcuni momenti storici con i carabinieri protagonisti in prima fila. Gli auguri che precedono il Natale sono anche un momento in cui si tirano le somme di un anno di attività. I dati statistici in provincia di Chieti non indicano una situazione di criticità. Un anno particolare anche questo caratterizzato purtroppo dal fenomeno pandemico però mi preme anche sottolineare e con questo anche ringraziare tutti i miei collaboratori che giornalmente hanno fatto fino in fondo il loro dovere supportando in ogni circostanza la popolazione. Criminalità, dati che ci può aggiornare, come è andata? La provincia di Chieti non presenta assolutamente fenomeni di criticità. Mi appello come sempre alla popolazione e la invito a segnalare o regandosi presso le stazioni nostre carabinieri, le 46 stazioni nostre presenti sul territorio o nel caso di emergenza, anche ricorrendo al numero unico di emergenza, il 112, sottolineando e evidenziando quelli che loro reputano essere criticità per garantire poi un immediato intervento da parte nostra. Grazie a tutti.